Radio 00, Radio 00, suona ciò che ami, più suona e più la ami Insomma sei nata dopo questo tontottesimo giro Ah guarda che c'è qua per te Abbiamo il regalo Auguri, un applauso Tutti dentro Paolo la frutti vendola Siamo tutti i carichi Ricordo, ricordo Ci siamo Questa è il cuore che mette nelle fasi conclusive Ci sembra ancora che possa andare a fare le prime posizioni Arrivano, arrivano Arrivano Arrivano, arrivano Arrivano, arrivano Arrivano, arrivano Arrivano, arrivano Da Castrovillari ad Alberobello La settima tappa 12 maggio 2017 E come tutti gli anni Da ben otto anni siamo qui al giro Quest'anno l'abbiamo dedicato al purtroppo scomparso Michele Scarponi Abbiamo fatto un striscione dicendo sul traguardo dei migliori Manchi solo tu, Michele Scarponi Manchi solo tu, Michele Scarponi Bitonto ti ricorda Radio 00 Radio 00 Radio 00 Suona ciò che ami Più suona e più la ami Buongiorno Buongiorno Buongiorno